Questo praticamente è il palazzo San Procopio, come vedete qua nella scritta. Vieni qua, l'alù. Vieni qua, monna ma partiti. Qua che è? Questa è l'entrata del palazzo San Procopio. L'entrata. Antico monastro dei Benedettini. Che è un antico monastro dei Benedettini. Vi faccio vedere adesso la volta. Ecco, tutto in pietra. Vieni qua, fatevi riprodurre così. Facciamolo subito qua sotto, ok? Questo è un centro benessere. Questa si svolgerà in questo locale qua. Un centro benessere. Questo è il centro benessere. Bagnoturco, Pasqueta Massaggio. Fammi vedere, un bagno turco qual è il qua? Questo. Questo che è il qua? Bagno scorsese. Questo è un bagno normale. Un bagno normale. Questo è un bagno normalissimo. Spir, questo è un bagno... Questa è un bagno... Questa è un bagno... No, non lo faccio. Per uno buco. Maggiate. Questa è la vasca che hai trovato San Procopio. è un bagno naturale. Eh, poi... Buono che è un messaggio alle carri. Sì, 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 ma come... Avete detto troppo tardi, se no meglio... Maggi che sia venuto adesso che cerco l'illuminazione naturale che è bellissima. Eh, Pasqueta Massaggio. Allora... Ce n'è una sola di questa vasca qua, questa qua, guarda, la Grotta del Sale, qui invece si vanno ai piani superiori, si va alla Grotta del Sale, illuminano poco, è una pera, no, va bene, invece niente. Sauna finlandese all'infrarusso, poi c'è la Grotta del Sale, si può salire qua su, Grotta del Sale a destra, Ah, qui, ma, benissimo, tutto nella Grotta, tutto nelle Grotte naturali, benissimo, adesso, praticamente questa è una doccia emozionale, Sala Massaggi è questa qua, questa è la Sala Massaggi. Benissimo, attrezzata, completamente attrezzata, qui pesce uno specchio, benissimo, Questo praticamente è lo stemma di Raffaele Bisanti. Devo chiudere? Chiudo. No, non è via, sta portando i torsi sopra. E mi senti. Io mi ho preso, io non me ne ho, tieni. Ma, la Sala è in quella, la mamma da Paglì? Ma è un po' sanno i papagli non pagine quella. Ma è un'aggiore in quella, è un'aggiore in quella. Ma è un'aggiore in quella, è un'aggiore in quella, è un'aggiore in quella, è un'aggiore in quella. Qua c'è la cantina, qui c'è la cantina, qua stanno operando gli operatori, gli addetti, bellissimo qua, qua c'è anche una mostra di attrezze, non si può accendere una luce qua che illumina. E' come ricordo dell'antichità, questa è una catina naturale, è uscita una grotta della cisterra romana, qua è male, faceva il telario e è uscita una torre. Questo qui è un pavimento proprio, di vetro, bellissimo. Si è ancora rimasto qualche botte, che c'era una volta qua, un'altra botte. C'è una botte, non è niente. Qui invece mi sembra che andiamo in un salotto. In un salotto. Allora qua non è solo benessere, è benestare proprio. Qui c'è un bel panorama che si vede proprio, madonna, si vedono le bellezze del paese, del paese bovino. Vedi? Vedi? Quello è il capanile della chiesa della cattedrale, è vero? Da questo posto si può ammirare una buona parte della Puglia. che bella. Si può andare ancora più in alto qua, qui ci sono dei quadri. La Repubblica Italiana. Perciò che è la stagione? Guardate, ci vuole mettere un pochino. Vedi che siccome stanno montando dentro tutto il casale, stanno i vicini che si tirano due di parcheggiare. E' lì. E' lì. E' lì. E' lì. E' lì. Tu devi arrivare un pochino, da qua devi arrivare il p Definita e da qua un pochino sopra, un pochino lo scほど sopra tanto siiplto che si fortunatamente di rimanere. Vedi, 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 vedi. Qui si vede addirittura su questo İşte. Ne sono mai venuto, da queste parti, mamma mia. A fare il campanile dell'orologio che sta al castello. quello invece è il campanile della chiesa cattedrale di qui possiamo ammirare il nuovo palazzo del comune ma è indicata per degli spunci proprio questo qui è un televisore e qui hanno per loro un cinema quelli che verranno bellissimo complimenti tutto arredato a modo qui praticamente le varie stanze ogni stanza c'ha un nome c'ha un nome particolare grazie